Il fallimento di Mercatone 1 ha portato molti consumatori ad informarsi presso gli sportelli di Adconsume Romagna. Alcuni consumatori hanno acquistato con carta di credito o finanziamento. In questi ultimi due casi sarà possibile contattare la società emittente della carta di credito e chiedere la restituzione di quanto pagato, di quanto ha debitato in carta. Nel caso di pagamento con finanziamento sarà possibile contattare l'istituto finanziario e chiedere l'interruzione del finanziamento e la restituzione di quanto pagato. Nel caso di pagamento in contanti sarà necessario fare l'insinuazione al fallimento della società Mercatone 1. Per tutti i consumatori che hanno necessità di informazione o di assistenza, Adconsume Romagna è disponibile presso le sedi di Rimini, Forlicesena e Ravenna. Potete trovare i numeri di telefono sul sito www.cisleromagna.it